L'impressione, peraltro confermata dai numeri, è che la situazione è non peggiori ma neppure migliori. E se non bastasse il quadro del Morelli ospedale Covid-19 a preoccupare anche la percentuale dei tamponi positivi. I malati Covid-19 che necessitano di cure ospedaliere calano, seppure molto lentamente, ma non si fermano in nuovi ricoveri. In soli tre giorni il Morelli ha accolto 19 pazienti, qualcuno in più dei dimessi, 16, a conferma di una situazione che rimane difficile quando sta per finire l'undicesimo mese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Oggi i ricoverati sono 93, 5 in meno rispetto a venerdì scorso, di cui 8 in gravi condizioni curati nel reparto di terapia intensiva, 5 i decessi registrati in tre giorni. L'impegno del personale di ASST per fronteggiare la pandemia non si concentra soltanto sulla cura dei malati ma anche sui controlli e in questi giorni anche sulla somministrazione del vaccino. Quanto ai test, attualmente il laboratorio dell'azienda diretto dal dottor Antonio Croce analizza dai 100 ai 150 tamponi al giorno per rispondere alle richieste delle strutture ospedaliere e dei pronto soccorso, oltre che ai casi segnalati da ATS. I numeri degli ultimi giorni sono tutt'altro che confortanti, anche se tra i positivi vi sono persone sottoposte a controllo, quindi già segnalate. Venerdì su 141 tamponi analizzati, i positivi erano 11, sabato ancora 11 ma su 85 tamponi e domenica 12 su 59. Per la giornata di ieri il riferimento era alle sole persone ricoverate o che si sono presentate in pronto soccorso. Numeri che confermano come il contagio continui e che rendono pressante l'adozione delle misure di sicurezza da parte di tutti.